E' una guerra in cui muoiono civili, in cui muoiono innocenti per gli interessi di due opposte parti del capitale, opposte parti del capitale che utilizzano fondi pubblici per garantire i propri interessi, per garantire il proprio monopolio. L'Italia, nel settore internazionale, non è un paese neutrale, noi non ripudiamo veramente la guerra. L'Italia è il nostro paese, fa parte della Nato, noi come altri paesi occidentali ci rifacciamo questa bandiera che stiamo bruciando, una bandiera che negli anni passati e ancora oggi è simbolo di guerra, è simbolo di morte e non aiuti per i civili bombardati, per i morti causati dalle bombe russe e ucraine. Noi, studenti, esattamente come gli operai, ci rifiutiamo di prestarci a questa narrazione guerra fondaia.